sorelle e fratelli ciao a tutti ben ritrovati benvenuti in questo mio nuovo video buon mercoledì 23 agosto 2023 a tutti voi un video interamente dedicato alle juventus women torniamo a parlare delle juventus women perché ci siamo ci siamo quasi anche la loro stagione è prossima ad iniziare ha parlato braghin i nuovi numeri di maglia barça juve di domani le convocate il nuovo sponsor tante cose tante cose legate alle juventus women di cui vi parlo in questo video però prima di tutto scusatemi scusatemi veramente per la pessima qualità video che avete trovato nel video di ieri del fantacalcio purtroppo ho utilizzato la vecchia telecamera pessima idea perché a determinate ore e con la determinata illuminazione relativa a quell'orario è venuta una porcheria quindi scusatemi l'avevo registrato l'avevo montato l'ho caricato comunque quando è andato online mi sono accorto che era decisamente pessimo l'ho lasciato non succederà più scusatemi per questo piccolo inconveniente tecnico di ieri prima di tutto come sempre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del vostro postman anche per avere le ultime news legate alle juventus women attivate la campanella delle notifiche lasciate un like se questo contenuto vi aggrada altresì qui sotto in descrizione trovate il canale di cosmin mio figlio alba morente 23 se volete iscrivetevi al canale di cosmin grazie anche da parte di cosmin allora ragazzi allora un video interamente dedicato alle juventus women partiamo con le parole di braghin le parole di stefano braghin il direttore sportivo delle juventus women che ha in buona sostanza chiuso il mercato in entrata ha detto braghin leggo chiaramente da juventus.com con l'arrivo di estel cascarino la rosa è completa in tutti i suoi ruoli il mercato in entrata della juventus è chiuso abbiamo agito secondo la rinnovata filosofia societaria cercando di conciliare competitività e sostenibilità siamo pronti per una nuova stagione centrale la qualificazione in wefa women champions league sarà il nostro obiettivo e nell'edizione corrente che avrà inizio dal mini tournament di francoforte il prossimo settembre cercheremo di mantenere la nostra posizione nella top 10 del ranking europeo non sono obiettivi semplici ma partire per la prima volta senza i favori del pronostico avremo sulla nostra strada l'eintracht di francoforte potrebbe attenuare la pressione e favorire la crescita del nostro progetto di interazione tra giovani talenti in ascesa e giocatrici di esperienza allo stesso tempo sono state diramate i numeri di maglia ufficiali che sono esplicativi della rosa 23 24 allora ve li metto in grafica velocemente abbiamo complessivamente 27 giocatrici attualmente vediamo se ci saranno uscite ulteriori in prestito ce ne sono state diverse spero di no soprattutto per una giocatrice in particolare allora ve le metto in grafica ecco quale maglie la numerazione ufficiale della stagione 23 24 1 aprile 3 gamma 4 cafferata 5 nilden 6 nistrom 7 garbinò una delle nuove con cafferata 8 rosucci 9 cantore 10 girelli vado avanti 11 bonansea 12 toniolo nuovo portiere 13 boatin 14 palis nuovo arrivo 15 grosso 16 per omagnan 17 bragonzi ecco qui asia bragonzi rientra alla casa madre lei è stata sempre di proprietà delle juventus ha fatto diversi prestiti negli ultimi anni vedremo se sarà confermata io lo spero è un attaccante è un esterno offensivo può fare tutti gli ruoli praticamente di attacco vedremo lo spero che sarà confermata intanto maglia numero 17 per asia bragonzi 18 birstein 19 linsei thomas e poi 20 cascarino nuovi arrivi 21 caruso 22 bellucci rientra dal prestito 23 salvai 32 sembrant 44 sliskovic nuovo arrivo 50 belotto 71 lenzini 77 gunars dotir queste le maglie che la juve ha presentato sui suoi social con questa grafica molto molto accattivante e poi andiamo a vedere le info istruzioni per l'uso per barcellona juve domani ore 19 alle stadi joan kraif è valevole questa amichevole per il trofeo gamper allora ci abbiamo le convocate abbiamo anche le convocate ragazzi eccole qua è partita anche martina rosucci con la squadra nonostante non sia ancora disponibile perché sta rientrando dall'infortunio ha finito a lavorare al j medical si sta allenando a vinovo è partita con la squadra alla volta di barcellona per la gara di domani le convocate aprile gamma cafferata nilden nistrom garbinò cantore girelli bonanzea toniolo boatin proseguo palis grosso bragonzi thomas caruso bellucci salvai sliskovic belotto lenzini e gunars dotir queste le convocate per il trofeo gamper di domani fischio d'inizio alle ore 19 come detto estadi joan kraif ad ora ad ora ad ora la copertura tra virgolette televisiva è sul canale discord del barcellona spero che ci sia anche juventus tv spero che ci sia qualche insomma broadcast che farà vedere questa partita se no live sul canale discord prima partita che va in streaming su un canale discord nello specifico del barcellona e poi vi parlo del nuovo sponsor delle juventus women jeep e juve è all'ultimo anno di contratto la squadra maschile ce l'ha ancora la squadra femminile si è distaccata la jeep ha il suo sponsor personale ve lo sto facendo vedere nelle png che sto mettendo in questo video leggo per la stagione 23 24 il sito il sito il sito fem il sito fem forum online punto di riferimento per le donne da più di vent'anni scenderà letteralmente in campo con le calciatrici della juventus diventando official jersey sponsor delle divise da gioco home away third e training kit che le bianconere indosseranno nella prossima stagione di serie a femminile e uefa women's champions league la divisa da gioco il nuovo official jersey sponsor esordirà a barcellona domani in occasione il trofeo gamper giovedì 24 agosto benessere attualità tendenze moda relazioni ed oggi anche sport occuperanno uno spazio nella community di fem il brand partner del gruppo jerry dunque exor dunque exor che ogni giorno coinvolge un ampio pubblico femminile di ogni età con un'attenzione particolare alla generazione millennial le j women hanno il loro sponsor personale da questa stagione in poi in avanti e poi ragazzi detto tutto ciò velocissimamente per quanto riguarda la next gen vi saluto simone guerra e bianconero arriva a titolo definitivo dalla feralpi salò firma un contratto annuale benvenuto simone jannic cotter definitivo al liverdon buona fortuna jannic felix correia in prestito annuale al gil visente fc buona fortuna felix e poi questa è notizia dell'ultimissima ora facundo gonzalez in prestito annuale alla samp giocherà in serie b con andrea pirlo perché la samp è allenata in b da andrea pirlo suerte facundo ragazzi vi ho detto tutto soprattutto per quanto riguarda le j women se domani riesco a seguire la partita mal che vada me la guardo sul canale e discord del barcellona vi porto il post gara se no rimedierò con altro è tutto per quanto riguarda questo video come sempre fino alla fine vamos women che domani tornano in campo e dunque a domani gioveri gioveri sul canale del vostro postman 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 gioveri sul canale del vostro postman